Sosteniamo l'Unione Europea nella sua azione contro l'immigrazione illegale. Lavoriamo con partner come Mauritania e Tunisia per rafforzare la loro capacità e dunque la loro stabilità. Così il segretario della Nato Stoltenberg, che parla da generale, lui che è economista e politico, di una questione epocale come le migrazioni di persone. Perché questa maledetta guerra scatenata da Putin inquina alle stelle l'atmosfera globale. Secondo Stoltenberg, la Russia ha aumentato la presenza in Africa e l'alleanza atlantica non può stare a guardare. Qualcuno, come il nostro governo, sostiene addirittura che i mercenari russi del gruppo Wagner sarebbero dietro il recente aumento dei barconi salpati dalla Libia. Uno stato fallito. La Tunisia rischia la stessa fine, è sull'orlo della bancarotta e un prestito da quasi 2 miliardi di euro del Fondo Monetario Internazionale è congelato. Da qui lo scambio con Sayed. Tu blocchi i migranti che arrivano dall'Africa subsahariana e puntano all'Europa e noi occidentali ti diamo i soldi per evitare una fantomatica invasione. Solo che il presidente tunisino è un despota, ha svuotato le istituzioni democratiche e per distogliere l'attenzione dal collasso socio-economico fomenta l'odio popolare contro i migranti. Eppure la Tunisia stessa è terra di immigrazione ed emigrazione. Tante mamme in questi mesi hanno pianto i loro figli affogati nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le nostre coste, cioè l'Europa, che insiste a trattare le persone migranti esclusivamente come una questione di sicurezza, di polizia e adesso, con il supporto della Nato, addirittura come un affare di tipo militare.